Terapie geniche cellulari non solo per malattie rare ma anche per curare i tumori. Qual è la situazione? Il sistema è pronto per l'arrivo di queste terapie? Lo abbiamo chiesto al professor Andrea Biondi in occasione di un convegno in corso a Milano promosso da Fondazione Carta. Professor Biondi, le terapie avanzate, quindi le terapie geniche, le terapie cellulari, sono nate per curare le malattie rare, però hanno dimostrato una certa potenzialità anche per alcune forme di tumori pediatrici. Di che cosa si tratta e a che punto siamo oggi? Il riferimento a queste nuove terapie è ai CAR. I CAR sono delle molecole che vengono introdotte con il loro gene dentro le cellule del sistema immunitario e in questo le cellule del sistema immunitario del paziente diventano il farmaco. Queste molecole funzionano un po' come un radar che permette di riconoscere il bersaglio e contengono, proprio perché sono delle molecole artificiali e quindi dei geni artificiali, anche i segnali necessari perché la cellula poi una volta ottenuto l'incontro col suo bersaglio sia in grado di proliferare, di fare il suo lavoro, che è quello di uccidere il bersaglio. Questa è decisamente una pagina nuova della medicina, perché pensare che le cellule del paziente diventino e se stesse il farmaco ovviamente è qualcosa di straordinario. È proprio l'inizio di una stagione nuova dell'immunoterapia che ovviamente è applicata adesso per i due farmaci che sono stati registrati alle leucemie linfoblastiche del bambino e del giovane adulto fino a 25 anni affetti dalle leucemie linfoblastiche acuta, che sia refrattaria a linea di trattamento, ma anche malattie più frequenti che sono i linfomi a grandi cellule, i linfomi bimedestinico dell'adulto, i cui numeri sono decisamente diversi da quelli dei bambini, adolescenti o giovani adulti refrattari e affetti dalle leucemie linfoblastiche acute. È un paradigma nuovo ed è un paradigma nuovo anche nell'organizzazione, per le stesse case farmaceutiche, perché qui il farmaco non è più in farmacia, ma è l'invio di un materiale che viene geneticamente manipolato e ritorna come prodotto che è il prodotto farmaceutico. Quindi anche proprio in termini di catena organizzativa è una situazione nuova, soprattutto perché nel mondo oncologico, a differenza delle malattie rare, i tempi contano e all'interno di una strategia terapeutica, anche di un paziente che ricadendo con una malattia resistente a refrattaria, i tempi non sono infiniti. E quindi questo sta aprendo in termini di complessità, sostenibilità e organizzazione, ovviamente problemi nuovi a cui non siamo certamente preparati. L'elemento di cautela è un elemento importante perché abbiamo bisogno di risultati più a lungo termine per capire veramente se i risultati iniziali di efficacia e di attività si confermeranno nel tempo. Abbiamo bisogno ovviamente di capire la sostenibilità perché i costi di questi prodotti sono ovviamente tra i più alti che abbiamo finora visto apparire sul mercato.